bressanone turismo natale 2018 con un evento davvero speciale a bressanone ci dici di cosa si tratta il nostro evento ormai è il quarto anno che abbiamo lo show multimediale all'interno del palazzo vescovile uno show che i primi tre anni ho portato 150 mila visitatori a bressanone e quest'anno abbiamo un natalie light musical show con una cantante dal vivo insieme allo show multimediale che rende unico questa questo spettacolo quanto dura e quando si può trovare lo spettacolo inizia il 22 novembre per la prima volta andiamo avanti fino al 6 di gennaio sono tre spettacoli al giorno circa mezz'ora di spettacolo sicuramente da vedere molto interessante per quanto riguarda lo sci per quanto riguarda la nostra montagna scistica la plose offre slittino 10 chilometri di piste di giorno e di sera con illuminazione e 40 chilometri di piste da sci con una panoramica spettacolare sulle dolomiti e il natale tutto da vivere quindi a bressanone certamente è la sede del vescovo a bressanone con il mercatino natale sotto il duomo è sicuramente una cosa da vivere e da starci per alcuni giorni ci sono delle offerte particolari per le famiglie le offerte particolari si trovano direi soprattutto durante le settimane per cui da questo questa indicazione a tutti gli ascoltatori tutti i visitatori venite durante la settimana che troverete dei pacchetti interessanti per le famiglie perché è interessante per le famiglie e quindi un invito a venire a bressanone a trovarvi assolutamente sì venite a scoprire questa cittadina bellissima nell'arco alpino dell'alto alice grazie e buon lavoro grazie 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 grazie